Reddito di cittadinanza e taglio delle tasse procederanno di pari passo per il ministro dell'economia Tria. La discontinuità è garantita da un mix di politiche che troveranno spazio nella legge di bilancio e la maggioranza giallo-verde prova a stemperare le tensioni anche sul decreto dignità approvato dall'esecutivo e che aveva suscitato malumori all'interno del carroccio. Ci saranno modifiche in Parlamento, le rassicurazioni di Salvini soprattutto al mondo dell'industria della piccola e media impresa bacino elettorale del nord vicino alla lega ma ogni modifica rassicura il carroccio sarà concordata con i 5 stelle. Sembrerebbe esclusa dunque almeno in commissione una discussione sulla limitazione del rinnovo dei contratti a termine e sul ritorno della causale come prevede il decreto lega che intanto incassa la reintroduzione dei voucher nel settore dell'agricoltura, del turismo e del commercio. Ma a turbare i sonni di Salvini e compagni resta soprattutto la vicenda giudiziaria sui fondi destinati alla Lega Nord. 49 milioni di euro che per la Cassazione devono essere sequestrati. Un attacco alla democrazia, la reazione dei leghisti che sono pronti a chiedere un incontro con Mattarella. Lo si lasci fuori dalla mischia la reazione del PD che chiede al carroccio di restituire i soldi pubblici agli italiani. Ma durissima arriva la risposta dell'Associazione Nazionale Magistrati. Le toghe non perseguono fini politici ed evocare un possibile intervento del colle è incostituzionale.